Siamo con la capitana Giannecchieri della Minsk al termine della partita controllata a TLC in Roma. Una partita particolare, sembrava che l'avesse tra le mani nel primo tempo, anche fino al sessantesimo circa. Poi c'è stato qualcosa che non è andato, raccontaci la tua in mezzo al campo. Allora, io quello che credo è che noi fossimo tecnicamente più forti, infatti si è visto, abbiamo governato tranquillamente il primo tempo. Purtroppo poi, secondo me, a mio avviso, ci sono delle situazioni in cui il singolo giocatore si mette sopra quello che è la squadra. Di conseguenza poi si fanno errori grossolani, errori grossolani che si pagano carissimi. E oggi non potevamo sbagliare, perché noi puntiamo ad arrivare tra i primi quattro costi, la corsa ormai è quasi a ripentaio, non possiamo più perdere un punto, neanche un pareggio. Sicuramente è una partita che costa tanto, io però comunque vi auguro un grosso in bocca al lupo per il vostro obiettivo e ti ringrazio per essere venuto ai nostri microfoni. Grazie.